Le delusioni non si contano più, l'ennesima col Giuliano. Biancazzurri piatti, senza ritmo e idee, ovvero il trend degli ultimi tre mesi. A Cerignola sabato prossimo, ore 17.30, Colombo si gioca la panchina. Pescara senza identità, non solo. Oggi è davvero complicato individuare una caratteristica del Delfino. Di certo ha difficoltà a trovare la via della rete. Portieri e avversari raramente impegnati, spesso inoperosi. Biancazzurri a digiuno di gol in sei delle ultime dieci gare. È accaduto contro Picerno, Avellino, Crotone, Foggia, Monterosi e Andrea. Contro il Giuliano, la rete di Merola è arrivata grazie all'evidente complicità del portiere campano. Tuttavia per segnare bisogna creare opportunità. Per produrre occasioni serve uno spartito, un'idea di gioco. Se non c'è, vengono fuori tutti i limiti. Succede ormai da circa tre mesi, più precisamente dal match interno con la capolista Catanzaro. Gara spartiacque del percorso di Mora e compagni. Contro squadre chiuse, schierate dietro la linea della palla, i Biancazzurri fanno fatica a sviluppare gioco e geometrie. Non ci sono soluzioni offensive. A maggior ragione se vengono meno ritmo, intensità e movimento senza palla. All'ultimo assalto il pareggio del Giuliano, figlio, è vero, di un infortunio di Lescano. La vittoria, ottenuta in dieci, espulso Plizzari, sarebbe stata preziosissima, ma non avrebbe cambiato di una virgola il nostro giudizio. Su prova e interpretazione, a dir poco, deludenti. C'è poi un dato indiscutibile e riguarda l'impressionante differenza di rendimento in negativo nell'arco delle 28 giornate in cui disputate. Ben 35 i punti conquistati nelle prime 14 gare, appena 13 nelle successive 14, ovvero media retrocessione. Altresì marcata la differenza reti, più 19, 27 gol fatti, 8 subiti nelle prime 14 giornate, meno 8, 13 gol fatti, 21 subiti nelle successive 14. Terzo posto, tutt'altro che blindato, Foggia a meno 5, Cerignola e Picerno a meno 6. Contro l'undici di Michele e Pazienza, snodo decisivo per Alberto Colombo. Biancazzurri, primi di plizzari causa squalifica e dell'infortunato Craia, alle prese con uno stiramento al polpaccio, l'italo-albanese sarà costretto a saltare le prossime tre partite.